Alessandro Polcri non perde la sua flemma e ai margini del convegno sul presente e futuro di Ponte Buriano ha parlato anche del futuro assetto della provincia. Da giorni i rumors parlano delle deleghe assegnate ad esponenti del centro-destra con la sola eccezione della Lega ma sull'argomento Polcri ha dribblato la sua maniera. Noi sappiamo che ci sono delle formalità che naturalmente prevedono come il testo unico degli enti locali che sia il Consiglio l'espressione massima dove si danno e si rendono ufficiali determinati passaggi. Dunque non starà a me in questa fase anticipare nulla ma sarà il Consiglio la massima assise anche per trasparenza dove naturalmente il Presidente andrà a formalizzare il rapporto con il suo Consiglio. Questi sono i passaggi che sono sì formali ma che dal mio punto di vista sono l'essenza della nostra democrazia. Politicamente questa è una risposta Dorotea. È una risposta forse che qualcuno potrebbe richiamare alla Prima Repubblica però io ritengo che l'importanza dei luoghi istituzionali lo si debba anche quantomeno rispettare quelle che sono le regole del gioco che vuol dire rispettare le leggi, rispettare i regolamenti e io credo che la politica si fa anche in un modo diverso che non è solo quello di internet, della comunicazione social ma è soprattutto quello di riscoprire il valore dell'istituzione. Dunque in questi mesi ho cercato di fare questo lavoro e lo farò anche nei prossimi. Grazie.